I camper spingono al massimo per giungere all'appuntamento più importante dell'estate, il festival interceltico di Lovien, che nella prima settimana di agosto per ben dieci giorni prende vita in Bretagna. Parcheggiati i caravan nel vicino campeggio di Larmour Plage, il gruppo si tuffa immediatamente nel festival. Nel pomeriggio si dà il via agli appuntamenti tanto attesi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS